Palla al limite dell'aria, resta lì, ci mette una pezza a Busato Attenzione, si è fatto male, forse ha preso un calcio perché ha abbassato la testa nel momento che Busato stava calciando Vediamo che non sia niente di grave Busato ha rilanciato in avanti, convinto Attenzione, telefonate in diretta, anche Pizzo ce li ha Credo di aver già spento